Ha coltellato i rivali in amore con un coccio di bottiglia, arrestato dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio un cinese di 25 anni. Il fatto è avvenuto la scorsa notte nella zona mare di Rimini. Verso l'una, come riporta il quotidiano online Rimini Today, una battuglia della polizia ha incrociato un uomo a torso nudo e con diverse ferite superficiali su tutto il corpo. Fermato dagli agenti, per capire cosa gli fosse accaduto, dalla centrale intanto è arrivato l'allarme che segnalava la presenza al pronto soccorso di Rimini di una coppia cinese con l'uomo gravemente ferito da una serie di coltellate e in particolare un profondo taglio alla gola. Anche il 25enne è stato portato in ospedale per essere medicato. La polizia ha scoperto che tutti e tre i cinesi si conoscevano. In particolare è stato possibile accertare che mercoledì sera lo straniero bloccato dagli agenti era arrivato a Rimini insieme alla moglie per incontrare un connazionale nuovo compagno della donna e chiedere chiarimenti in merito alla loro relazione. Ma la discussione è degenerata. Sul lungomare i due contendenti sono passati prima alle mani e poi il 25enne ha afferrato una bottiglia di vetro trovata a terra e dopo averla rotta con un coccio ha aggredito il rivale. Nella colutazione il giovane ha provocato all'avversario diverse ferite, le più gravi al collo. Solo per pochi centimetri non è stata recisa la carotide. Intanto la donna è corsa a chiedere aiuto in un locale mentre il 25enne stava scappando. L'aggressore, dopo essere stato medicato in pronto soccorso, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio mentre la vittima, un 32enne, è stato giudicato guaribile in 20 giorni.